C'è da stare attenti, i comportamenti individuali e dei gestori dei locali devono essere responsabili in questo momento difficile dell'emergenza in cui i contagi purtroppo con la variante Covid-Omicron stanno aumentando. L'obiettivo di tutti è quello di trascorrere i giorni delle festività in sicurezza nella maniera giusta ed adeguata all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo senza eccessi. A dirlo questa mattina il prefetto di Salerno Francesco Russo al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è svolta stamani presso il palazzo di governo in piazza Mendola. Un incontro utile al prefetto di Salerno per ribadire e rafforzare con i rappresentanti delle forze dell'ordine la necessità di garantire controlli rigorosi nei prossimi giorni all'indomani anche dell'ordinanza firmata ieri dal governatore De Luca che impone il divieto di feste scolastiche di laureo di compleanni nei locali al chiuso della regione Campania in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica. C'è da essere molto attenti, già lo abbiamo detto l'altro giorno, i comportamenti individuali sono fondamentali, noi richiamiamo l'attenzione anche su quelli che sono i comportamenti dei gestori perché è chiaro che la collaborazione di tutti in un momento ahimè obiettivamente difficile perché i contagi stanno aumentando, abbiamo questa variante Omicron che presenta ancora tantissime incognite e rispetto alle quali una difesa preventiva, una tutela anticipata è sicuramente meglio che poi non cadere in una situazione di grandi difficoltà soprattutto quando riguarda il sistema sanitario con l'aumento delle terapie intensive o dei ricoveri ordinari, per cui è necessario essere godendo di questo momento importante di festività nella maniera giusta. Io sono convinto che i salernitani, ancora una volta i salernitani, tutti coloro i quali abitano nella provincia di Salerno, sapranno comportarsi nella maniera adeguata rispetto a questo momento particolarmente difficile.